Un 32enne Chioggiotto nella notte tra il 1 e il 2 giugno a piove di sacco sulla strada dei Vivai all'incrocio con via Gelsi verso le 4 del mattino ha perso il controllo dello scooter finendo sopra una rotonda. Stabilizzato è stato trasportato all'ospedale di Padova dove si trova tuttora in gravi condizioni al reparto rianimazione. La famiglia non ha ancora idea su cosa sia potuto accadere al congiunto per farlo rovinare a terra e sta attendendo notizie resicuranti dal nosocomio Patavino. Sportivo domani avrebbe gareggiato con l'associazione Hurricane che poco tempo fa ha fatto una dimostrazione dell'attività sportiva OCR Obstacle Course Race svolta alla spiaggia libera La Diga. L'agenzia Venice Water Link in collaborazione con la Raffaello Navigazione in aprile e maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito www.veniswaterlink.com Per maggiori informazioni online sul sito www.veniswaterbank.com